Ciao a tutti cari amici, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere una domanda, o meglio, una risposta sì o no. Formulate la domanda in modo che la risposta possa essere sì oppure no. Prendetela come una guida perché le risposte sì o no sono sempre un po' riduttive, diciamo così. Ok, allora abbiamo la prima scelta per il primo mazzo che è quello verde, diciamo, è voluto uscire l'otto di coppe. Per il secondo mazzo, quello azzurro, è uscito il tre di bastoni e per l'ultimo mazzo che è quello blu, è uscita la regina di bastoni. Ok? Quindi scelta uno, due o tre. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo verde con l'otto di coppe. Allora, innanzitutto vorrei andare a estrarre una sibilla e poi andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Come sempre vi ricordo che la lettura è generale, è fatta per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare una delle altre due letture e se volete contattarmi trovate la mia email nella finestra qui sotto, nella descrizione del video. Allora, andiamo a vedere qual è la sibilla per voi che avete scelto, diciamo, l'otto di coppe, il mazzo verde. Queste sono veramente tante. Una sola per piacere, grazie. Grazie. L'albero. Vi leggo che cosa dice la carta. Sono scritte un po' in linguaggio poetico, diciamo così. Non siete una persona fortunata, non dovete quindi sperare invinciti al gioco o altro, che anzi vi porterebbero alla rovina. Accontentatevi del vostro stato e confidate solo nelle vostre forze. Ecco, qui è un po' un... Non aspettatevi un aiuto dall'esterno. Cercate di farcela da soli fondamentalmente. Vi leggo anche la frase sotto che è molto carina. Allor che far non puoi ciò che tu vuoi, contentati di far ciò che tu puoi. È carino, è un gioco di parole. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Quindi qui fondamentalmente cercate di non andare troppo verso dove non si possa andare, diciamo così. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di consapevolizzare lo stato di abbondanza che già ha. Andiamo a vedere. Risposta sì o no? Per le persone che hanno scelto l'otto di coppe. Tenete presente che l'otto di coppe è una carta di ricerca spirituale. Quindi per qualcuno si potrebbe trattare di una risposta sì o no nell'intraprendere un qualche tipo di percorso, un qualche tipo di viaggio, un qualche tipo di spostamento. E abbiamo di nuovo anche una carta di viaggio, un 6 di spade per incominciare. Andiamo a vedere che cos'altro vi dicono. Perché se gli spade di solito è una carta di distacco sia fisico, ma anche da un punto di vista mentale, da un punto di vista anche emotivo molte volte. Oh mamma quante carte. Asso di coppe. Guardate, questo è visto che sono uscite in blocco, le metto di qua. E abbiamo una regina di denari, un 5 di pentacoli, la carta della temperanza, la ruota della fortuna. Guardate, in realtà avere sia la temperanza che la ruota della fortuna è molto positivo. Perché si esce da una sorta di, per qualcuno dipendenza, per qualcuno stato di tristezza, stato di carenza economica. E' una carenza, comunque il 5 di oro normalmente di denari, sì scusate qua c'è scritto il 5 di oro sulla carta perché sono spagnole. Il 5 di denari normalmente parla di una perdita, parla di qualche cosa che ha generato una sorta di tristezza, una sorta di miseria anche mi verrebbe da dire. Però essendoci poi la temperanza e la ruota della fortuna, direi che c'è questo cambio in vista. Forse non riescono a partire le cose come voi vorreste o non riuscite ancora da un punto di vista magari emotivo a staccarvi come voi vorreste. Magari il tipo di distacco è più da un punto di vista mentale in questo momento, cioè state diciamo concependo l'idea. Diciamo che la ruota, visto che qui avete una carta che vi dice che non avrete vincite al gioco e qui c'è la ruota della fortuna che parla in realtà di vincite al gioco. Sento che è più un aiuto diciamo di tipo divino, di tipo esterno perché avete la temperanza che è comunque un angelo, è un angelo. E anche la ruota, si parla di ruota del destino, quindi c'è qualche tipo di movimento qui che succederà e potrebbe anche essere, vi dico, vedendo il radicope alla fine, grazie a una persona che vi darà una mano, che vi darà un aiuto, ok? Andiamo a vedere, andiamo a vedere anche con i tarocchi di Osho, che cosa vi vogliono dire? Cosa c'è che si vede di questa situazione e cosa non si vede di questa situazione? La solitudine e la partecipazione, interessante perché sono due carte completamente contrastanti, una parla di solitudine e l'altra parla di partecipazione in grossi gruppi addirittura. Quindi qui vi dicono, ecco, risuona un po' perché qua vi dicono che dovete farcela da soli, l'eremita ha quel tipo di capacità e di energia, è una persona che ha abbastanza saggezza, esperienza per riuscire a intraprendere questo viaggio da solo. Anche qui abbiamo una carta di viaggio, anche qui abbiamo una carta di viaggio. Manca qualcosa qui con questo osso di coppe, io credo che molte persone abbiano poca fiducia in sé. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi dice. Perché comunque la partecipazione, come vi dicevo, è un quattro di bastoni, parla di contratti. In questo mazzo specifico parla di un gruppo, del far parte di un gruppo. Guardate, mi viene da dire che sia un gruppo di anime, che siano contratti di anime, perché comunque abbiamo la ruota, la fortuna e la temperanza. Io credo che siate nel tipo di situazione, di relazione in cui siete, perché c'è qualcosa a livello karmico che qui potrebbe, potrebbe, insomma, aiutarvi a crescere. Normalmente, quando c'è un 5 di pentacoli, al contrario, vi dico, però a certe volte anche al dritto, parla di una sorta di dipendenza o co-dipendenza. Non lo sento tanto qui, perché non ho carte negative, però sì, una sorta di... Non mi piace chiamare la dipendenza, però diciamo che vi fate condizionare parecchio da una figura che potrebbe essere la regina di denari. Andiamo a vedere gli oracoli, cosa dicono. Per le persone... ok. Orfani, e ve lo metto qua di fianco all'eremita, e non è per voi. Sì, qui probabilmente, perché anche questa carta qua ve lo diceva, non aspettatevi aiuti dall'esterno, non aspettatevi vinciti al gioco, non aspettatevi aiuti dall'esterno. Io sento che comunque qualche tipo di aiuto, se non è fisico, rappresentato da quest'ora di coppe, può essere un aiuto di tipo divino, ok? Però vi dico, da un punto di vista pratico, questa carta è un 5, è una carta di ferita di abbandono, ok? Anche qui l'otto di coppe parla di un vuoto emotivo, e qui non è per voi. Io sento che qui c'è qualcuno che ha bisogno di togliersi dalla testa qualche tipo di idea o qualche tipo di situazione o di persona, con la quale magari c'è una sorta di dipendenza, potrebbe essere economica, una sorta di codipendenza, magari affettiva, una sorta di condizionamento, ma comunque avete la ruota della fortuna e la carta della temperanza. La carta della temperanza vi avvia alla guarigione, c'è l'avvio a questo cambio, ok? Il punto è che secondo me, qui dovete riconoscere che cosa è per voi, che cosa non è per voi, che cosa fate per soddisfare le aspettative degli altri o perché magari sperate che soddisfando le aspettative degli altri, gli altri vi vogliano più bene o vi diano di più, ecco. Cioè, scrivetemi poi che cosa rappresenta per voi, non è per voi. Ok, un ultimo messaggio, così per chiudere la lettura, andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Eh, che bella carta questa. La felicità è mio diritto di nascita. Questo ditevelo, quando vi vedete in questa situazione di 5 di denari, dove vi sentite impotenti, perché la carta del 5 di denari è una carta di due viandanti, di due mendicanti, che avrebbero la possibilità di salire le scale, di rifugiarsi in questo tempio, avrebbero la possibilità di cambiare la loro situazione. Ma sono talmente abituati al tipo di situazione che hanno, che per loro va bene così. Sono talmente abituati che per loro va bene così. È una carta che parla di un po' di un ristagno di energia. C'è qualcuno che sa di non star bene, però comunque rimane in quella situazione, o per abitudine, o per impotenza a muoversi, o per una condizione mentale di impotenza. Scrivetemi come vi risuona poi. Guardate, in realtà poi alla fine la risposta della domanda è sì, ce la farete, che sia perché voi avete le possibilità di farcela, perché avete passato tante cose nel vostro vissuto che vi hanno comunque rinforzato. L'eremita comunque vi dice che voi avete tutte le capacità. Riceverete comunque un aiuto, anche se qui vi dice di non aspettarvi vincite al gioco. Io sento che qui parla da un punto di vista terreno, ma qui l'aiuto che riceverete sarà da un punto di vista astratto, astrale, divino, diciamo così. Sento che per qualcuno è importante fare il salto, è importante iniziare questo tipo di viaggio. E la risposta alla domanda è sì, perché comunque abbiamo un re di coppe che termina la lettura. Però è interessante perché c'è questa carta, il non è per voi. Fatemi sapere, anche se la risposta è stata sì, non dico qual era la domanda, però perché secondo voi risuona o perché non risuona il non è per voi. Va bene, amici dell'otto di coppe, questo è quello che avevo. Spero in qualche modo di esservi stata utile, di avervi illuminato, insomma di avervi anche un po' rassicurato. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o anche fare una donazione. Tutto il vostro supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro con il 3 di bastoni. Andiamo a vedere anche per voi se la risposta alla vostra domanda sarà sì oppure no. Vi ricordo che la lettura è generale, fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla, poi potete anche ascoltare una delle altre letture. Nel caso vogliate contattarmi invece trovate la mia mail qui sotto nella descrizione del video. La fortuna! La prima carta è una sibilla. Sono carte scritte diciamo in un linguaggio un po' poetico. Allora, la prima frase che dice qui è Felice è quel cui da periglio e danno le sciocche prove altrui sicuro fanno. È la carta migliore del gioco. Essa vi annuncia fortuna nella vita, in amore o in affari. Eredità prossima, vincita al gioco. Diciamo che rinforza le carte vicine. Quindi il 3 di bastoni fa riferimento a qualche inizio di attività, a qualche inizio progetto, a un viaggio, a uno spostamento, a qualche tipo di magari scambio o commercio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli, due assi, un asso di coppe e un asso di spade, la carta della morte. Sì, qui probabilmente si tratta di un cambio, di un passaggio, perché con la carta della morte c'è comunque un bisogno di tagliare con qualche cosa che ormai non fa più crescere e c'è bisogno di rinascere, di rigenerarsi. O quante regine? Regina di bastoni, regina di denari e 8 di pentacoli. Questa sento che per molte persone va a risuonare come una stessa di lavoro. Primo perché c'è la carta del lavoro, secondo perché ci sono i viaggi e i progetti. Allora, qui c'è qualcuno che è ben ben attaccato, afferrato al tipo di realtà, di solidità, di concretezza che ha già creato, diciamo così. C'è una sorta di attaccamento, comunque. mentre dall'altro lato, come vi dicevo, ci sono due assi. Sento che qui può essere che ci sia una sorta di paura al cambiamento, una sorta di difficoltà a integrare il fatto che si debbano cambiare determinate... Mi parlano di catene di montaggio. C'è qualche cosa da cambiare, c'è un approccio nuovo da dover prendere, ma infatti qui è la morte, no? O si tratta di cambiare tipo di progetto, quindi di... appunto, chiudere con la vecchia azienda, se vogliamo, o non lo so se per voi fosse una relazione, chiudere con quel litigio, con quella discussione, e ripartire da capo, ripartire da zero, che è la cosa che voi fate fatica a fare, fondamentalmente, in questo momento, ok? ci sono due regine, quindi potrebbero esserci più persone coinvolte in questa situazione, direi che bisogna lavorarci sodo, con costanza, quotidianamente, a questo nuovo progetto. Allora, le due regine potrebbero essere o due lati della stessa medaglia, o due persone, che in qualche modo influiscono positivamente, vi dirò, su questo tipo di situazione, perché comunque sono due persone, soprattutto la regina di denari, molto generosa, pronta ad aiutare, la vedo positiva, la vedo positiva, e vi dirò che c'è, probabilmente, la necessità di questo rigenerazione, riciclo, cambio, insomma. Diciamo che avere la morte, in questo caso, con la carta della fortuna, è un po' come se vi dicessero, osa, cambia, e così avrai, avrai più fortuna, arriverà il lavoro. Andiamo a vedere, conoscio, cosa si vede, ok, e cosa non si vede. In viaggio, otto di bastoni, e una nuova visione, la carta dell'appeso. Eh sì, è quello che vi dicevo, c'è da rigenerarsi, rigenerare l'idea che avete di questa situazione, di questa relazione, dell'azienda, del lavoro, di quello che è per voi, questo quattro di pentacoli, della cosa a cui voi siete attaccati, e rendersi conto che, cambiare, non vuol dire necessariamente, eh, lasciare indietro, le idee precedenti, ma anche, innovare, molte volte, quello che è, magari il tipo di offerta, che voi proponete. e la carta dell'appeso, sì, cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva. Quando arriva la carta dell'appeso, è perché c'è la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista. la carta dell'appeso, è un po' come se vi dicesse, ok, fai conto che le cose sono così, che questo è, e da lì si riparte, ok? Qui la morte, certe volte, può parlare della morte, di un progetto, quindi magari il fatto che bisogna tagliare, con qualcosa che non vi rende più, che vi dà quei quattro soldi, ok? Qua, è un otto di bastoni, nei tarocchi tradizionali, è una carta di forte energia, è un acceleratore naturale, come il Reiki, e quello che arriva sono notizie, sono prese di consapevolezza, novità, più che altro notizie, informazioni, ok? E credo che sia quello che poi vi darà la possibilità di fare questa rivalutazione con la carta dell'appeso. Andiamo a vedere con gli oracoli di che cosa si tratta, che altro messaggio vi vogliono dare, riparare, carta numero 52, vedere le cose da un altro punto di vista, la morte, di qualche tipo di discussione, è una carta che fa riferimento al perdono, riparare il cuore. Poi abbiamo carta numero 36, spingersi al limite, quindi anche qui si arriva ad un punto dove si deve tirare una riga, e fare le somme, e ripartire da capo fondamentalmente. Carta numero 36. E poi abbiamo flessibilità, carta numero 19, e sento che è quella flessibilità che vi richiede l'appeso, il cercare di vedere le cose da una prospettiva diversa, da un altro punto di vista, ok? Bene, un ultimo messaggio da parte dell'universo. Scelgo l'amore, non importa come, e c'è uno stormo di amore supportando i miei sogni, che supporta i miei sogni. vi ricorda un po' di aprire il cuore, che è quello che in questo momento avete, diciamo, difficoltà a fare in questo tipo di situazione, ma perché probabilmente state vivendo con la morte una situazione di sofferenza. La morte, vi dico, sì, parla di cambi, ma sinceramente c'è un momento da superare, ok? Guardate, vi dico, la risposta alla domanda a me sembra positiva, quindi, perché comunque abbiamo tutte carte positive, la morte è anche una carta di rigenerazione, quindi io direi che la risposta alla vostra domanda è un bel sì. Bene, amici del 3D Bastoni, spero che la lettura vi sia stata utile, se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, qualsiasi modo vogliate scegliere per supportare il canale è sempre ben accetto, insomma. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo con la regina di Bastoni. Andiamo a estrarre subito una Sibilla e vediamo qual è il messaggio e poi andiamo a vedere con i tarocchi. Io vi ricordo comunque che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla potete ascoltare una delle altre due letture. Se invece volete contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Bene, allora andiamo a vedere. La fortuna e il serpente sono scritte in un linguaggio un po' poetico io ve le leggo entrambe. La fortuna è scelta anche e uscita anche alla stesa prima. È la carta migliore del gioco essa vi annuncia fortuna nella vita in amore o in affari eredità prossima vincita al gioco rinforza il significato delle carte a fianco e questa è la carta del serpente dice insidia o calunnia che si sta tramando a vostro danno. State in guardia per non cadere nella rete. Quindi qui c'è da fare attenzione. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi per questa situazione per questa vostra domanda. partiamo con un cavaliere di coppe quindi può essere che qualcuno qui vi abbia fatto qualche tipo di offerta una proposta magari lavorativa o magari potrebbe essere emotiva perché quando c'è il cavaliere di coppe di solito l'offerta diciamo che è un'offerta di tipo romantico un'offerta dove c'è comunque un certo legame affettivo di base andiamo avanti vediamo che cosa altro mi dicono ok allora abbiamo la stella il 7 di pentacoli il fante di spade e anzi queste tre che mi sono rimaste in mano le metto qua su fante di spade 6 di spade e cavaliere di pentacoli qui potrebbe sì potrebbe essere proprio qualche questione a livello romantico o a livello affettivo c'è un sogno qui che si aspetta tipo la realizzazione dei desideri ok abbiamo la carta della stella e 7 di pentacoli qui c'è una sorta di impazienza se vogliamo a realizzare un sogno a sapere anche mi verrebbe da dire allora il punto un po' più diciamo intricato della situazione è questa zona della lettura perché qui abbiamo un fante di spade che mi parla di un atteggiamento idealista ok e qui abbiamo un 6 di spade che parla di qualcuno che si allontana da qualche idea che si è assorbita durante l'infanzia normalmente parla anche di problemi familiari ed è un distacco anche fisico alle volte ok e poi abbiamo un cavaliere di pentacoli che indica una sorta di lentezza la carta principale è una regina di bastoni la regina di bastoni è sempre una persona molto influente che sa come parlare per ottenere quello che vuole è una persona ammaliatrice e io penso che potrebbe essere la vostra persona di interesse potrebbe essere un segno di fuoco quindi ariete leone o sagittario anche se non mi piace molto dire i segni zodiacali però è una persona che è come vi posso dire ha un fortissimo fascino ma c'è questo fante di spade che mi fa pensare o alla presenza di un figlio dal quale o dalla quale non ci si possa allontanare o potrebbe semplicemente rappresentare questo fante di spade qualche tipo di come vi posso dire di controllo perché il fante di spade è una persona se ci fate caso è nascosto sull'albero e sta osservando qualcuno pronto con la spada è come avere un punto di vista un po' da lontano cercare di perché comunque c'è un sei di spade c'è un allontanarsi da certe idee da certe anche aspettative se vogliamo e comunque la prudenza del cavaliere di pentacoli e sento che sì per qualcuno è arrivata questa proposta per qualcuno ragazzi è proprio una proposta di matrimonio perché abbiamo quattro di bastoni come carta finale che è proprio la carta dei contratti molte volte anche dei contratti di matrimonio se non è un reale contratto di matrimonio si parla o di un contratto da un punto di vista magari lavorativo o anche solo una convivenza per esempio nel senso che è un accordo anche se non è scritto però perlomeno è verbale è qualcosa che è stabilito e il fatto che ci siano due persone che ballano comunque si parla di festeggiamenti di qualche tipo di cerimonia di celebrazione ok andiamo a vedere conoscio ok quello che si vede e quello che non si vede il gravame ed è un 6 di spade tra l'altro sono le aspettative degli altri quello che si fa per soddisfare le aspettative degli altri quello che si fa perché ci hanno detto che era giusto fare così l'innocenza che è la carta del sole e il ribelle che è la carta dell'imperatore due arcani maggiori qui avete bisogno attraverso la vostra saggezza ok perché voi avete l'esperienza avete bisogno di rompere le catene a cui siete abituati e trovare le vostre regole dovete rompere dovete creare questo distacco secondo me proprio a livello mentale andiamo a vedere ancora un oracolo vediamo che cosa vi dice ok wow ne ho già visto una che bellissima nuova vita carta numero 39 quindi questa chiusura di contratto questo accordo questa cerimonia questa celebrazione dà una nuova vita e poi abbiamo immaginare e qui sento che è la legge di manifestazione dovete prima immaginare qualche cosa prima di vederlo nella vostra realtà ok guardate qui quello che dice il serpente come carta insidia o calunnia che si sta tramando a vostro danno sento che in realtà non è qualcun altro ma è questa sorta di attitudine mentale e di gravame che voi sentite se ci fate caso in questa carta è raffigurata una persona dai vestiti umili che sta trasportando sulle proprie spalle una persona ricca ok con un altro peso in cima che gli sta dicendo dove andare ok quindi fate attenzione a chi vi dice fai così o fai cosà o mi aspetto questo o mi aspetto quello perché in questo caso vi sta un po' sfruttando cioè nel senso è un qualche cosa che si magari proietta su di voi però in realtà è un suo desiderio ok e molte volte con il 6 di spalle succede nei confronti della famiglia quando la famiglia ha tante aspettative nei confronti dei figli e i figli si sentono questa spada di Damocle puntata sul collo perché devono soddisfare le aspettative dei genitori mentre i genitori a volte non si chiedono neanche tesoro cosa vorresti fare da grande dico a volte cioè nel senso questo sento che è una tendenza che sta cambiando si sta ponendo molta più attenzione a effettivamente quale sia l'attitudine del figlio del bambino del ragazzo ragazza e la volontà però tempo addietro si faceva quello che si diceva cioè che si diceva in casa ecco va bene allora poi non è sempre successo così per tutti però per la maggior parte delle persone che con cui parlo è così allora andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte grazie ne abbiamo due ok mi lascio andare a un potere più grosso del mio bellissima carta parla di un aiuto divino è qui quindi vi ricordo che avete la stella la stella è anche il destino molte volte e poi abbiamo questa carta che è le mie esperienze esterne sono un riflesso della mia condizione interiore quindi quando si dice guarda la casa di qualcuno e capirai come sta emotivamente ci sono le persone che non ammettono un dettaglio fuori posto e chi invece sembra che quando entri in casa loro si è esplosa una bomba per carità ognuno è libero di esprimere di vivere la propria casa come meglio crede però è un riflesso a livello energetico quindi c'è da farsi qualche domanda ecco diciamo che per trovare l'equilibrio bisognerebbe starne in mezzo non troppo perfezionisti e ordinati ma neanche troppo disordinati e me ne freghisti insomma poi ripeto ognuno io personalmente sono piuttosto disordinata quindi lì va bene ragazzi spero che la lettura vi sia ah no scusate è un bel sì la risposta è un sì rotondo firma di contratti festeggiamenti create voi la vostra sicurezza la vostra zona di comfort fate voi le vostre regole come dice la carta del ribelle spero che la lettura vi sia stata utile fatemi sapere nei commenti se volete supportare il canale potete mettere un like iscrivervi condividere lasciare una donazione ogni tipo di supporto a me aiuta io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao